Il nostro piano funziona amico mio, le truppe di Washington sono divise, il palazzo è incustodito. Questo ti sarà utile, il meccanismo è un po' complesso, ma sono certo che saprai domarlo. Molto bene, ci vedremo quando avrò terminato. Queste porte sono state forzate. A chi stavano sparando? Perché questa bacilla? Sì. 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 Madre, non hai fermato Washington. Ma forse mi condurrai da lui. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.